Dio entra in relazione con gli uomini attraverso persone concrete, compregi e difetti che però permettono la realizzazione di un quadro, cosa che assumerà la sua pienezza nel Sì di Maria. A volte vorremmo una storia santa, scevra da limiti e incomprensioni, tutta luce, ma è proprio nella nostra umanità che si incarna un progetto di bene definito al momento della creazione, che anche noi possiamo contribuire a far affermare. Dio scrive diritto sulle nostre righe storte, usa le nostre storie non sempre esemplari per salvare l'umanità. Oggi fai una preghiera di suffragio per tutti i tuoi antenati, offrendo le mortificazioni della giornata.